Svolta nelle indagini per l'investimento di venerdì sera in pieno centro a Taranto, i carabinieri hanno arrestato la donna che era la guida dell'auto, una Ford Focus, che ha travolto un uomo di 54 anni all'angolo tra Via Mazzini e Via Muffalcone all'uscita da un bar mentre si trovava sul marciapiede. Dopo l'investimento la donna aveva abbandonato la vettura dandosi alla fuga. I militari dell'arma sono riusciti in breve tempo a risalire la sua identità grazie alle immagini delle telecamere di videoserveglianza della zona. La donna è stata così rintracciata e portata in caserma. Secondo le prime ricostruzioni il movente del tentato omicidio sarebbe passionale. Pare che i due avessero avuto in passato una relazione e che la donna non avesse accettato la fine della loro storia, da qui la vendetta. L'accusa formulata nei suoi confronti dal PM Enrico Bruschi è di tentato omicidio e lesioni dolose. Per l'uomo un odonto tecnico, trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata, subito dopo essere stato travolto dall'auto della sua ex, si è temuto il peggio. Fortunatamente per lui nulla di grave, ha riportato escoriazioni su tutto il corpo ed è tuttora ricoverato nel nosocomio Tarantino. Un caso che ha creato preoccupazioni e che poteva avere conseguenze ben più gravi.